Buongiorno a tutti, eccoci qua, consueto appuntamento del weekend con l'azionario europeo che chiude l'ultima ottava che appena abbiamo lasciato alle spalle in territorio positivo, quindi finali di settimana con acquisti per l'azionario europeo con la migliore performance che è stata raggiunta da Londra che chiude a 1,10%, acquisti invece più contenuti per Parigi, Francoforte e Madrid che chiudono rispettivamente a più 0,42%, più 0,40% e più 0,32%. Nonostante l'esito inconcludente del Consiglio europeo dove sono stati discussi i dettagli del tanto sospirato piano di Recovery Fund proposto appunto dalla Commissione europea, decisioni che appunto sono state rinviate al fumata nera, quindi decisioni che sono state rinviate a luglio. I leader in maniera unanime hanno concordato che la gravità della crisi giustifica una risposta comune ambiziosa, una che combini solidarietà, investimenti e riforme. Questo è stato affermato appunto dalle prime dichiarazioni a freddo della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine appunto del Consiglio europeo. I mercati ovviamente trovano sostegno dalle indiscrezioni relative alle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e Cina, secondo quando riportato da Bloomberg e da diversi fondi anche della Reuters, Pechino starebbe valutando di intensificare le quote di importazione di alcuni prodotti agricoli americani, in particolare soia e mais, in linea appunto con l'accordo commerciale di fase 1 che è stato raggiunto l'anno scorso delle due potenze economiche mondiali. Inoltre si guarda con ottimismo anche al ritmo delle tempistiche della ripresa economica, in particolare ai dati macro positivi sulle vendite al dettaglio e il calo delle richieste di sussidio alla disoccupazione. Passano invece in secondo piano, almeno per il momento, le paure della seconda ondata di contagi di Covid-19 che hanno dominato i mercati durante la scorsa settimana. Per quanto riguarda invece la situazione su Piazza Affari, anch'essa guadagna un'ottima chiusura in positivo a più 0,68%, fermandosi a quota a 19.618,93 punti. Sul listino milanese sono messe in evidenza soprattutto le utility come Enel che segna 1,7%, poi abbiamo anche Telecom a 3,5%, Salvatore Perferragamo invece per quanto riguarda guida il settore del lusso a 3,2%, mentre invece spicca in negativo di Atlanti a meno 0,6%. Per quanto riguarda le news che sono state rilasciate ieri, rimbalzo maggiore del previsto in Gran Bretagna a maggio, mese in cui sono state allentate le misure di lockdown, le vendite al dettaglio sono aumentate del 12% rispetto ad aprile quando erano crollate del 18%. Il dato è migliore delle aspettative, gli analisti infatti avevano stimato il recupero del 5,7% su base annua, quindi nei confronti del maggio del 2019. Le vendite al dettaglio in Gran Bretagna mostrano una flessione del 13,1%. Per quanto riguarda invece i prezzi alla produzione, ancora in decelerazione in Germania a maggio, nonostante la ripresa dell'attività post lockdown che non è riflettuta sui prezzi. Secondo l'ufficio federale di statistica tedesco, i prezzi all'industria nel mese di maggio hanno registrato un decremento anno del 2,2% dopo il meno 1,9% del mese precedente. Il dato è leggermente peggiore del consensus a meno 2,1%. Anche su base mensile i prezzi hanno segnato una variazione negativa dello 0,4% dopo il meno 0,7% del mese di aprile e si confrontano con un meno 0,3% atteso. I prezzi all'energia hanno registrato un calo dell'1,2% su un mese ed un decremento del 7,9% rispetto allo stesso mese del 2019 a causa del crollo delle quotazioni petrolifere pari a meno 27,5%. Prossima settimana 22-26 giugno da lunedì alle ore 16 unica indicazione macroeconomica vendita di abitazioni esistenti, poi martedì 23 giugno alle ore 9.30 l'indice dei direttori di acquisto e settore manifatturiero della Germania del mese di giugno, poi alle ore 10 dalla zona euro, indice PMI manifatturiero di giugno, poi alle 10.30 una serie di indicazioni macroeconomiche che arrivano dalla Gran Bretagna con l'indice PMI composito, l'indice dei direttori di acquisti del settore manifatturiero e l'indice dei direttori degli acquisti e settore dei servizi. Alle ore 16 invece abbiamo le vendite di nuove abitazioni del mese di maggio dagli Stati Uniti. Passiamo a mercoledì 24 giugno, ultimo appuntamento per questo mese per quanto riguarda i tassi interessi, quindi a chiudere i battenti e l'ultima meeting della Banca Centrale della Nuova Zelanda alle ore 4 e poi praticamente alle ore 5 dalla Nuova Zelanda abbiamo la conferenza stampa. Alle ore 10 invece dalla zona euro l'indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche del mese di giugno. Passiamo a giovedì 25 giugno, alle 14.30 dagli Stati Uniti una serie di indicazioni con i principali ordinativi di beni durevoli di maggio, poi alle 14.30 il PIL del primo trimestre, poi le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione invece Stati Uniti e sempre dagli Stati Uniti. Chiudiamo venerdì 26, unica news alle ore 16 sempre dagli Stati Uniti l'indice di fiducia dell'Università del Michigan, quindi è una settimana che dal punto di vista macroeconomico non dà delle grosse indicazioni, quindi staremo a vedere cosa succederà, tutte le notizie che andremo poi ad analizzare di volta in volta giorno per giorno dal punto di vista extra calendario macroeconomico. Bene detto questo andiamo a vedere, passiamo alla seconda parte con l'analisi soprattutto per quanto riguarda la presentazione come la consedutine della diretta live, quindi diretta live potete iscrivervi dalle 8.30 alle ore 15 alle 8.30, quindi due dirette live giornaliere, qua trovate tutto un po' di informazioni, 8.30 alla sessione mattutina, 8.30 alle 9.30, mentre invece la sessione pomeridiana dalle 15 alle 15.30, quindi tutta una serie di indicazioni di approfondimenti, analisi, altra macroeconomica ed extra macroeconomica dove andremo ad analizzare poi a confrontare il tutto con gli scenari più importanti. Oltre alla diretta live potete iscrivervi anche alla chat telegram, quindi per chi non la può seguire oppure può anche seguire entrambe se c'è tempo a disposizione, se avete tempo a disposizione, chat telegram, anche qua un purpurini di tanti servizi, tante informazioni, tante indicazioni, ma non solo diciamo c'è l'analisi in sé per sé, per quanto riguarda l'analisi legata alle informazioni più importanti, insomma alle analisi vere e prove, ma trovate eccoci qua, vedete, adesso vi faccio vedere, trovate anche non solo quindi le analisi sull'azionario, sul valutario, sugli indici, sulle commodity, ma anche informazioni relative al contesto macroeconomico, le informazioni, le indicazioni più importanti, extra calendario macroeconomico, infatti la mattina iniziamo, si inizia con non solo il commento all'agenda macroeconomica, ma la breaking news dove guida i principali eventi più importanti della giornata odierna, quindi tutta una serie di informazioni, vedete, oltre alle tante analisi e tante altre informazioni. Bene, passiamo quindi alla seconda parte, seconda parte che fondamentalmente, andiamo a vedere un po' la situazione, per quanto riguarda la chiusura di questa settimana, che cosa è successo in particolare sugli indici, indici abbiamo il Nasdaq che praticamente tutti gli indici che l'hanno chiuso in rialzo, nonostante che poi dopo sulla chiusura della settimana, proprio ieri i venerdini e le ultime ore battute di arresto prima della chiusura della settimana, ci sono stati dei vertiginosi crolli per quanto riguarda gli indici. Abbiamo al momento un Nasdaq che chiude la settimana a 3,04, il DAX a 1,91, l'SP 500 a 1,12, i Dow Jones a 0,45%. Mentre invece, per quanto riguarda i prodotti energetici, abbiamo il VTI che è, sì, ottima performa, ottima settimana, del VTI che chiude a più 8,94%, per quanto riguarda invece i metalli, l'oro, 1,09, ancora siamo in una zona di analisi importante che potrebbe, la rottura dei massimi, degli ultimi massimi potrebbe comportare dei movimenti rialzisti interessanti. Per quanto riguarda invece il valutario, il valutario vede ancora una chiusura di una settimana con la sterrina in difficoltà appesantito dal niente di fatto di tutti i vari collochi che ci sono stati la scorsa settimana, la settimana appena trascorsa per quanto riguarda i vari negoziatori per gli accordi commerciali post Brexit, ma al momento, diciamo, sono molto distanti i pareri tra le parti, le parti in causa sono molto distanti, quindi questa situazione è andata un po' ad imprimere negativamente sulla sterrina. Poi, a seguire l'euro, le due valute australiane, il dollaro della Nuova Zelanda e il dollaro australiano, o a seguire il CAD a 0,11%, e quindi una settimana insomma un po' particolare, dove in pratica non ci sono stati maggior parte, dopo andiamo a vedere anche sulle major, abbiamo assistito a delle settimane inside rispetto alle movimenti settimanali inside rispetto alle precedenti settimane. Pannello di controllo per quanto riguarda la nostra best and worst che vede questa settimana 1 yen, 6,82, mentre invece c'è la sterrina appesantita da tutti questi problemi, 9,46 euro, meno 2,69. Il migliore scenario in generale è il VTI, che praticamente chiude la giornata di venerdì a 1,46, all'8% la settimana e il mese a 12,85, quindi situazione che molto probabilmente potrebbe continuare anche nelle prossime giornate. Attenzione all'oro che piano piano si sta portando su, poi dopo andiamo a vedere quello che succede, poi in particolare attenzione anche alle coppie in cui è presente la sterlina, anche sterlina dollaro australiano e sterlina dollaro in Nuova Zelanda e che potrebbero fornire delle importanti indicazioni ribassiste. Bene, detto questo, passiamo ad analizzare anche la situazione relativa alla EMA dashboard, quindi all'altro pannello di controllo e al momento vedete abbiamo una, tutte le coppie in cui come abbiamo visto prima, la sterlina tutte quante con le medie che stanno girando al ribasso, stessa situazione per sterlina yen, poi anche GBB AUD, attenzione, occhio a seguire anche questi altri due scenari che la prossima settimana potrebbero dare dei movimenti ribassisti e poi come abbiamo detto attenzione all'oro, oro che già sta dando indicazioni tutto long e gli indici, indici prima giornata, prima long, poi praticamente hanno virato fortemente al ribasso, quindi una situazione un po' di stallo, quindi non un po' particolare la situazione per quanto riguarda gli indici. Bene, adesso andiamo alla terza parte, la parte appunto dedicata alla parte dedicata alle analisi. Bene, partiamo dall'analisi dell'euro dollaro, sempre in ottica settimanale. Allora, al momento ci troviamo al di sotto la zona di una zona dove in passato esattamente tra 1,13 e 1,12 e 40 è stata più volte, zona sensibile è stata più volte testata dai vari movimenti settimanali e che già nelle penultime due settimane, prima dell'ultima settimana, si era evidenziato proprio su quest'area, era evidenziato due shadow, shadow, quindi due false rotture proprio di 1,13. Effettivamente il mercato aveva già negli ultimi, dall'inizio del mese di giugno, aveva incontrato, e questo si vede proprio dal shadow, delle grosse difficoltà a portarsi al di sopra 1,13. Infatti, prova del 9 sono state proprio lasciate, perché praticamente non hanno dato nessun close al di sopra 1,13. Poi questa settimana, la settimana che appena si è chiusa, quindi abbiamo assistito ad un movimento, vedete una zona in cui le quotazioni, un ulteriore falso movimento, 1,13 e poi la conferma della rottura del lato inferiore di quest'area, individuata già la scorsa settimana, di 1,12 e 40 e da qua è iniziato il movimento ribassista. Movimento che fondamentalmente potrebbe continuare, ovviamente questo movimento è dipeso dalla forza che è impressa questa settimana, soprattutto per quanto riguarda il dollaro, movimento che fondamentalmente potrebbe continuare anche nella prossima settimana, ed in pratica abbiamo, quindi una situazione interessante per quanto riguarda l'euro dollaro, ed il che potrebbe continuare anche a partire dalla prossima settimana. Bene, attenzione quindi a quest'area, area di possibile ripartenza sell, con un target che potrebbe raggiungere questa zona, zona dove in passato, vedete, prima di questo movimento un po' a punto interrogativo, alti e bassi, quindi rossa, blu, blu, rossa, qua sotto praticamente abbiamo una zona che potrebbe continuare il movimento ribassista anche per le prossime settimane, quindi qua si vede molto bene, eccoci qua, quindi questo è il movimento che potrà dare l'euro dollaro. Ok, bene, detto questo, passiamo avanti, ed andiamo a guardare anche il, andiamo a guardare poi, dollaro yen. Allora, per quanto riguarda il dollaro yen, partiamo sempre dal grafico settimanale. Allora, sul dollaro yen settimanale abbiamo una situazione in cui vedete un rimbalzo, esattamente un ulteriore, il prezzo già diverse settimane è precisamente, anzi, torniamo un po' di storia indietro nel tempo, abbiamo individuato questa zona rosa, zona di vendita, dove la settimana scorsa c'è stato un deciso movimento al ribasso, ma come vi dicevo prima ci sono state, questa settimana è stata caratterizzata per diverse, sia per le major, ma che anche per diversi cross, delle settimane inside, e questa è la prima che andremo ad analizzare. Una settimana che al momento è compresa all'interno del range di volatilità della scorsa settimana. Quindi, e il prezzo non è riuscito a rompere, vedete questo 106 e 60, livello, area, quindi prezzo dove è stato già, vedete, più volte utilizzato sul, il 26 aprile, poi è stato la settimana del 3 maggio, quella del 10 maggio, e poi l'ultima settimana, vedete, la settimana scorsa e poi adesso quest'altra settimana. Fondamentalmente è molto, questo 106 è anche in passato, quindi è molto forte, però la rottura di questo movimento potrebbe comportare una fase ribassista. Poi, per quanto riguarda, in un'ottica giornaliera, applicando anche Elliot abbiamo praticamente un 1, un'onda 2 che finisce esattamente sul 32,6 della prima onda, e da qua potrebbe continuare, quindi potrebbe dare un'estensione o uguale a 1, uguale all'onda 1, oppure uguale al 161,80. Quindi da qua potrebbe iniziare un movimento, quindi a conferma di quello che abbiamo visto anche nel grafico settimanale, il prezzo si è appoggiato a 107,50, e da qua, quindi, poi, vedete, qui, proprio per il movimento, vedete, si è proprio chiuso qua dentro. La rottura potrebbe dare atto ad un movimento ribassista importante. Per quanto riguarda, invece, il cable, allora, il cable, ho chiuso in anticipo, proprio la mattina di venerdì, mattina, i primi movimenti, dove praticamente sono stato tratto un po' in inganno di questo movimento, vedete, un movimento dove sembrava che voleva ripartire, voleva iniziare a fare una correzione, ho chiuso le altre due operazioni, che poi il mercato è crollato un'altra volta, e, ovviamente, provvederò anche, poi, vedete, qua, si era appoggiato, già giovedì, su questo, dove abbiamo preso profitto il primo target, poi, dopo, venerdì, questo è in movimento, un altro breakout. Ovviamente, aspetterò la chiusura, aspetterò qualche correzione, per poter entrare nuovamente al mercato in vendita. Anche in questa situazione, ovviamente, abbiamo, quindi, una, molto interessante, vedete, avevo indicato un sell al breakout di 1,26, quindi, c'è stato 1, 2, eccolo qua, quindi, da qua è partito la zona sensibile, la zona rosa, testata anche in passato, diverse volte, qua c'è stata la rottura, il retest, barra di esaurimento, movimento, correzione, e via di seguito. Quindi, qua, la correzione l'ha chiusa al 65% del primo movimento, quindi, quasi 61,8, un po' più sopra, e da qua potrebbe continuare a dare altri segnali, indicazioni ribassiste. Praticamente, nel, in, sul, abbiamo una bearish total, quindi, ha dato indicazioni ribassiste, e, dopo di questo, abbiamo anche una situazione in cui, come dicevo prima, potrebbe dare atto ad altri movimenti a ribasso. Quindi, ma, oltre a questa bearish total, abbiamo anche un, la costruzione, ancora in costruzione, diciamo, il lato CD di un altro movimento armonico, che potrebbe, eh, chiudersi tra 1,16 e 80, 1,15 e 60. Quindi, questa è la situazione che potrebbe dare atto a qualche movimento di circa altri 760 punti. Quindi, questa è la situazione. Quindi, potrebbe, molto probabilmente, potrebbe, eh, questo perché? Anche perché la sterlina, come ho detto prima, è appesantina da tutte queste indicazioni, Brexit, che non c'è un accordo e via di seguito, e, 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 quindi, ci potrebbero stare altri movimenti. Se ci mettiamo su H4, si è formata questa, mh, eh, questa, eh, eh, Bullish Anen Star, nuovo pattern armonico di, i nuovi pattern armonici, e, niente, da qua potrebbe iniziare, però, dobbiamo vedere un po' le prime, eh, indicazioni, come si comporterà, eh, come si comporterà, praticamente, la, la prossima settimana, per, eh, decidere sul da farsi, per decidere un po' come si, eh, come, come sarà, appunto, eh, come è possibile, quindi, entrare a mercato anche la prossima settimana. Staremo a vedere. Però, ripeto, ci potrebbe stare una correzione, dopo questo movimento importante, movimento che ha dato vita, vedete, a circa 340 punti. Bene, passiamo al USD Franco. Allora, USD Franco, un'altra settimana che fondamentalmente, vedete, non candela inside, anzi, qua abbiamo una sorta di, eh, candela di indecisione di questa settimana, quindi, quindi, al momento, decido di non operare, di non fare nient'altro, per quanto riguarda, quindi la metto un attimo in stand-by, o SD Franco. Bene, passiamo, ad, auto-SD, auto-SD, allora, per quanto riguarda auto-SD, continuiamo a mantenere l'operazione di vendita, anche qua, eh, il settimanale, eh, ha, eh, il dato vita, ha dato vita, un importante movimento, vedete, un importante, eh, test, di questa, della zona rosa, zona di vendita, poi, qua abbiamo un doppio massimo, ok, avevo indicato un sale al breakout di 0.69, la rottura di quest'area, e, infatti, vedete, sta mantenendo, la scorsa settimana ha mantenuto, anche adesso, c'è stata una correzione, un ritorno, verso 0.69, ma adesso sta dando altre indicazioni, ovviamente, al di sotto questa zona, quindi, dove, esattamente, adesso vado anche a segnarlo, all'interno del, allora, qui, quindi, eh, la rottura, un breakout, a 0.67, e 50, quanto è possibile inserire altre operazioni di vendita, questo, ovviamente, però, dipende anche dalla debolezza del dollaro austriano, e, queste settimane, ci sono stati, rispetto alla scorsa settimana, ci sono stati un po' di alti e bassi, però, da qua, potrebbe dare atto, quindi, facciamo, un, cambiamo, 0.67, 50, un sale, al breakout, altro sale al breakout, di 0.67 e 50, quindi, questo è per quanto riguarda, auto, auto sd, quindi, un sale al breakout, praticamente, di 0.67 e 50, la prossima settimana, per quanto riguarda, eh, la situazione, invece, anche sul giornaliero, siamo a chiusura, di onda, onda 5, movimento, eh, qua, auto sd, il movimento, è partito, eh, da quest'area, quindi, eh, da qui, è partito da qua, prima onda, seconda onda, poi, la terza onda, la quarta, la, e poi siamo, all'interno della quinta onda, poi, dovrebbero arrivare, delle onde correttive, ma, staremo a vedere, la prossima settimana, che cosa succede, però, al momento, la situazione, sembra, che vuole volgere, al ribasso, usd cad, allora, andiamo a vedere, eh, la situazione, anche, eh, su usd cad, allora, per quanto riguarda, usd cad, sempre in ottica settimanale, qua, potrebbe partire un buy, un'operazione buy, manteniamo, il pending, buy stop, eh, alla rottura, ho indicato, avevamo questa zona grigia, zona di retest, poi, tracciando, fibonacci, di lungo termine, dall'ultimo, massimo, quello del 2017, l'ultimo minimo, l'ultimo massimo, vedete qua, impulso, correzione, che si è fermata, precisamente, tra, area, 50, 61, e 8, proprio, è andato a prendere, 50, ovvero, 1,3360, e ci ha rimbalzato, è uscito fuori, dalla zona, eh, di grigia, verso l'alto, quindi ha rotto, anche questa zona, di supply, e da qua, potrebbe iniziare, il movimento, al rialzo, la rottura, di questa zona, quindi, dove adesso, si è appoggiato, vedete, quindi, abbiamo, un, 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 su settimanale, si evince, che la scorsa, settimana, la settimana, appena trascorsa, quella di, che si è chiusa ieri, c'è stato, un, falso, break, un movimento, al rialzo, vedete, un break in, ha fatto la finta, di rompere, il massimo, della giornata, di ieri, dell'ultima, della, della precedente settimana, e poi, è chiuso qui, quindi, manteniamo, l'operazione, e by stop, la rottura, del massimo, potrebbe, favorire, qualche movimento, al rialzo, quindi, staremo a vedere, che cosa succede, per quanto riguarda, invece, la, Elliot, anche qua, abbiamo, quasi, è fermato, sul 49, 100, quindi, abbiamo, la prima onda, onda 1, la seconda onda, 48, 9, quindi, questa è la seconda onda, e da qua, potrebbe, iniziare, potrebbe partire, l'onda, che, potrebbe, raggiungere, il 100, oppure, il 161,8, oppure, il 261,8, di onda 1, quindi, sarebbe, se andiamo a tracciare, l'estensione, 100, 161,8, quindi, stiamo, allora, praticamente, eccoli qua, il 100, andiamo, ad, 1,38, 71, 161,8, addirittura, 1,41, oppure, potrebbe, arrivare, al 261,8, quindi, queste sono, le estensioni, di onda 3, bene, però, diciamo, il filo guida, è sempre, il settimanale, poi, andiamo, su, New Zealand Dollaro, allora, anche su, New Zealand Dollaro, partiamo, dal settimanale, e qua, la situazione, anche qua, è molto interessante, zona rosa, zona, di, dove in passato, vedete, è stata, molto sensibile, anche qui, e qua, si è formato, un doppio massimo, il prezzo, che non ha rotto, è 0,65, 80, ma, si è portato, al di sotto, questa zona grigia, vedete, dove, è rappresentata, una zona, da, una, una zona, un livello, di, demand, 0,64, e 50, supply, 0,65, 85, e da qua, è iniziato, potrebbe iniziare, in movimento, la scorsa settimana, c'è stato, un, un punto di swing, che, da qua, potrebbe partire, il sell, e, questa settimana, addirittura, andrà a fare, una falsa rottura, anche per pochi punti, di, 0,64, e 90, da qua, potrebbe iniziare, il movimento sell, ovviamente, la rottura, di, 0,64, e 30, potrebbe, quindi, favorire, potrebbe, dare atto, ad, un, potrebbe, quindi, far scattare, le vendite, e questo, ovviamente, dipende anche, dalla debolezza, e dollar, e la nuova, a 0, anche qua, abbiamo, se andiamo a applicare, possiamo applicare, il, eliot, quindi, qua, è onda 1, onda 2, che si ferma, su 61,9, 61,8, 61,9, per la precisione, e, da qui, andando a tracciare, abbiamo, le estensioni, di onda 3, potrebbero arrivare, al 100, 161,8, 261,80, 0,59, 75, quindi, da, però, aspettiamo, la rottura, di questo minimo, bene, ora, abbiamo visto, le major, passiamo ad analizzare, i gold, le commodity, di partendo, dal, partiamo, dal gold, e, per quanto riguarda, l'oro, questa volta, ci spingiamo, addirittura, su un mensile, per capire bene, la situazione, beh, è vero, che abbiamo, una bearish bat, però, potrebbe anche essere, annullata, questa, bearish bat, è ancora valida, ma, se, anche qua, individuando, una zona grigia, vedete, una zona, rappresentata, dal massimo, e del minimo, del mese di maggio, il mese di giugno, se andiamo a vedere, è ancora inside, vedete, ma, sembra che si sta, piano piano, si sta spostando, verso l'alto, per poter, rompere, questa zona, questo box, e quindi, potrebbe, la rottura, quindi a questo punto, di 1772, 50, potrebbe, invalidare, il pattern armonico, e potrebbero, far partire, degli acquisti, importanti, acquisti, che vedono, effettivamente, come, primo, target, potrebbe, essere, questo, eccolo, qua, quindi, questo potrebbe, essere, un primo target, e vieni lì, quindi, ripeto, c'è una maggiore, intenzione, di poter rompere, di poter passare, sopra 1772, 50, perché si trova, molto vicino, rispetto, al, 1600, 1660, bene, questo è, per quanto riguarda, il, l'oro, passiamo, al crude, allora, per quanto riguarda, il crude, la rottura, di 38, e 70, potrebbe, favorire, dopo, la scorsa settimana, caratterizzata, da qualche vendita, in più, potrebbe, favorire, una maggiore, potrebbe, quindi, contribuire, ad, riportare, nuovamente, ancora più su, le quotazioni, del VTI, ma, interessante, è, sul, in ottica, in ottica, H4, un testa e spalle, sarebbe questo, allora, un attimo, che vado a tracciare, anche la neckline, quindi, praticamente, abbiamo, questo, testa e spalle, che, questa è, la prima spalla, questa è la testa, questa è la seconda spalla, vedete, questa è la neckline, perfetto movimento, il pullback, vedete, e qua, potrebbe, dar vita, ai, un, bel, movimento, al rialzo, pullback, diciamo, quasi, perfetto, fondamentalmente, vedete, come, si è, posizionato, su quest'area, e da qua, potrebbe, partire, la, movimentazione, nel long, ovviamente, dobbiamo aspettare, che mantiene, sia appoggiato, vedete, sia sulla trendline, sulla neckline, e questo 38, adesso, la, la giornata, la settimana, si è chiusa, proprio, al ridosso, del prezzo, del buy limit, del prezzo, di ingresso, a mercato, target, quindi, andiamo a vedere, primo target, precisamente, ad, ad, 41,60, secondo target, a 53,65, passiamo agli indici, indici, un, un mese bruttissimo, per gli indici, movimenti, che, all'improvviso, cambi repentini, di, 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 passiamo, al DAX, ed, praticamente, per quanto riguarda, la situazione, sul DAX, qui, vedete, non ha rotto, la zona, eh, 12,363, dove, doveva, diciamo, dare atto, a qualche, eh, movimento, eh, sopra, c'era, una partenza, se, una partenza, vai, invece, vedete, come si è appoggiato, il prezzo, e, niente, praticamente, il prezzo, ha chiuso, sotto il livello, annuale, 12,268, 80, e, fondamentalmente, potrebbe continuare, questo, movimento, eh, movimento, eh, dove, eh, si è appoggiato, proprio, dopo questa, bearish, max, bat, eccola qua, a questo punto, è confermata, tutti gli effetti, da qua, potrebbe, iniziare, eccolo qua, vedete, 61,8, da qua, potrebbe, dare vita, la prossima settimana, ad altri, movimenti, al ribasso, quindi, i DAX, fondamentalmente, potrebbe essere, spinto, anche dal nulla di fatto, eh, del, 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 del recovery found, potrebbe, dare alto, ad altri, movimenti, ribassisti, quindi, vedremo, un po', la prossima settimana, come, come si, comporterà, come, che cosa, avrà, come si, sposterà, poi, passiamo, al, Nasdaq, e, sempre, sul, in ottica giornaliera, anche qua, vedete, il, 10.000, non è stato, superato, 10.000, area, di acquisto, e, praticamente, ha, se, si, 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 mantiene sotto, al 10.000, anche qua, potrebbero, potrebbe, dare atto, abbiamo, si sta formando, vedete, sembra che abbiamo, già, due massimi decrescenti, e, fondamentalmente, al di sotto, il, la zona, eh, 9.000, questa qui, eh, 9.800, 150, qua sotto, potrebbe, iniziare, un, movimento, selle, importante, quindi, vediamo un po', se mantiene, questa situazione, per quanto riguarda, il down Jones, è quello che, la mattina, long, poi, pomeriggio tardi, ha virato, letteralmente, il, movimento, anche qua, sul giornaliero, abbiamo, onda 1, onda 2, e, e, niente, da qua potrebbe, iniziare, potrebbe, siamo in pieno, onda 3, da seguire, sell, il prezzo, non ha rotto, questo, praticamente, non ho riuscito a rompere, questo, 26.380, si è mantenuto, qua sotto, e, da qua, se andiamo, un attimo solo che, allora, eccoci qua, allora, da qua, potrebbe, partire, l'onda 2, che, potrebbe, aiutarsi, addirittura, a 23.688, oppure, 21.762, oppure, addirittura, a, 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 a 18.673, quindi, questi sono, i vari target, vedete, quindi, anche qua, i bonacci, si è chiuso, tra il 70, e il 61, e il 80, a 72, e da qua, potrebbe, partire, il movimento, un'altra, fase, ribassista, interessante, quindi, molto probabilmente, per quanto riguarda, gli indici, a meno che, non c'è, un ulteriore, cambio, di tendenza, per quanto riguarda, gli indici, la situazione, resta, al ribasso, quindi, molto probabilmente, la prossima settimana, potremmo assistere, ad ulteriori, movimenti, ribassisti, bene, per, questo, fine settimana, è tutto, grazie mille, per la vostra, eh, per la partecipazione, alle varie dirette live, alle video analisi, fine settimana, e niente, ci aggiorniamo, alla, nella prossima, la prossima appuntamento, c'è la prossima, eh, diretta live, mattutina, della nuova settimana, di lunedì prossimo, buon fine settimana, a tutti. di lunedì prossimo,